Il primo dato è che ci sono stati mesi di febbraio ancora più siccitosi, il secondo è che comunque quest'anno si sono avuti valori ben sotto la media, il terzo è che la situazione richiede la giusta attenzione anche in prospettiva e non solo a livello locale. La carenza di precipitazioni continua ad affliggere la provincia di Belluno e tutta Italia e non per nulla la cabina di regia nazionale dedicata al tema si è conclusa con la decisione di nominare un commissario per la gestione dell'emergenza. Poter contare su un unico interlocutore, su una cabina di regia tra i ministri interessati e sulla semplificazione delle procedure per gli interventi necessari, commenta l'assessore regionale all'agricoltura Federico Caner, ci permetterà di intervenire in maniera congiunta di fronte a un problema che rischia di innescare anche tensione sociale. Ma torniamo ai dati locali. ARPAV sottolinea come statisticamente febbraio sia il mese meno piovoso dell'anno, ma i dati dal primo gennaio dicono che gli scostamenti sulla media dei valori del 1991 va dal 21% dell'alpago al quasi 70% dell'area tra l'agordino, lo zoldano e il cadore. A borca, agordo e forno di zoldo, per esempio, a febbraio non ha mai piovuto, prima volta da 37 anni. A ben guardare, in passato ci sono state situazioni ancora più estreme. Se si considera il dimestre gennaio-febbraio, dettaglia ARPAV, si nota come negli ultimi tre decenni si sono avute alcune situazioni anche peggiori per carenze di precipitazioni come negli anni 2020, 2005, 2000 e 1993. La situazione rimane comunque sotto monitoraggio.